Secondo ride di surgelati nella stessa ditta nell'arco di pochi giorni. I ladri poco prima della mezzanotte di sabato hanno scavalcato la recinzione che dà sull'autostrada e hanno aperto ben 13 furgoni, i camioncini frigoriferi della ditta di surgelati di via Serenissima a Grisignano che li consegna a domicilio, ormai presa di mira. Hanno forzato i portelloni, rubato generi alimentari surgelati di ogni tipo, arraffandone il più possibile per poi scappare per un bottino in via di quantificazione sul fatto, indagano i carabinieri.